vai codice tiri l'audio l'hai tolto? no vado? no vai vado se va bene Massi? vai lì 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 è uguale ho un gol aspetta si si va riaggiustata se si sposta va bene così? si puoi truffare? quale è fatto? sarà quello vedi la palla? si nulla attraversa quella da giù ma che affasso ma che affasso ma che affasso ma che affasso poi c'hai questo dove ti pare fuori? fuori giusto? anche perchè non torna cosa a fare dalla vogliazza poi questo l'ultima è di qua ha fatto uno no? si perchè se il tuo avversario non gioca non ci vuole vado eh ehi due vai due non ci vuole non ci vuole non ci vuole non ci vuole non ci vuole